ben godi benvenuti oggi una puntata speciale dedicata tutta udite udite mi muovo al matrimonio sono già uscita da un arco vedete ne parleremo poi nel corso del programma perché conf commercio oggi ci regala veramente un'emozione il wedding 365 ossia sposarsi 365 giorni perché adesso ci si sposa tutto l'anno non è come ai miei tempi che si aspettava la bella stagione oggi ci si può sposare ogni giorno quindi i fioristi di conf commercio in questa speciale occasione ci faranno vedere come un matrimonio si crea l'idea si sviluppa il progetto e quindi avremo anche nel finale non ve lo svelo non ve lo svelo perché è veramente un una chicca avremo un momento appunto emozionante poi nel finale però come sempre abbiamo anche il nostro collegamento all'esterno con il nostro roberto francini e grazie all'immagine di claudio calone perché io sono qui con i miei fioristi ma anche tu roberto sei in un luogo dedicato al petaloso mi verrebbe da dire io sono in un luogo bellissimo tra l'altro ero convinto di aver trovato come minimo il sacro graal ma mi hanno detto che non è così questo è semplicemente uno degli oggetti degli arredi di questo posto questo posto dedicato all'allestimento dei matrimoni all'allestimento floreale ma non solo si cerca di creare proprio un'atmosfera flowers and living ne parleremo tra poco con marta che vi presenterò tra un attimo nel prossimo stacco che avremo con la regia tra poco grazie roberto io devo dire non so da te ma io qui ho un profumo di fiori ed effettivamente c'è anche una frase che dice che il profumo è l'intelligenza dei fiori allora ora vi presento tutti però vado subito dalla nostra tiziana burgassi che è la responsabile provinciale per quanto riguarda i fioristi di conf commercio allora com'è che vi è venuta questa bellissima idea dedicata al matrimonio perché avevamo già trattato il tema del natale abbiamo già trattato lo scorso anno il tema della primavera della pasqua e allora perché non far conoscere l'arte floreale proprio inerente al matrimonio perché perché giustamente l'ho detto io ci si sposa tutto l'anno e sposandosi tutto l'anno cambiano gli scenari cambiano tutte le proposte no perché c'è proprio un progetto poi che viene studiato dai fioristi sì assolutamente al di là in base poi alla sposa al vestito della sposa quindi il bouquet c'è tutta una uno studio per dove riguarda la chiesa se dove viene fatta poi la cerimonia la cerimonia esatto e con come dire l'avvento dei matrimoni stranieri internazionali poi parleremo esatto le location e quindi va strutturato tutto in una maniera molto particolare e ben definita non a caso l'arco che insomma è stato inquadrato all'inizio trasmissione è un'idea possiamo dirlo vincente che arriva proprio dal mondo anglosassone esatto esatto qui abbiamo praticamente il portale che è in questo momento è un cerchio e quindi rappresenta la fede rappresenta proprio l'anello classico ci sono i portali a forma di cuore ognuno poi in base al proprio paese di origine diciamo ha una sua storia comunque poi ora Boris ci vado e ce lo decorerà ho usato il termine giusto allestirà roberto io ti ripasso la linea perché anche tu devo dire che a profumo devi stare molto bene ok qui sono con marta petrioli che è una fiorista di confcommercio che siamo quindi a baldaccio d'anghiari ad arezzo ma come ti è venuta questa idea è un posto unico questo si è un'idea nuova che è nata appunto negli ultimi anni dove si cerca di collegare la la bellezza del del fiore di quello che è il contesto del del matrimonio unendo il fiore con i vari accessori che possono essere utilizzati in questo giorno indimenticabile cercando di creare appunto delle scenografie particolari ed uniche ecco ma questa è un'idea che hai avuto te l'hai vista da qualche altra parte una tua passione chissà di quando di quando eri bambina sicuramente è una passione che ho sempre avuto comunque la manualità il fatto di abbinare la sensibilità appunto anche nell'abbinare colori materiali diversi fiori e tutto questo nel negli ultimi anni dove appunto il mondo del matrimonio un po cambiato in quanto quando vengono i clienti vogliono un servizio abbastanza completo quindi che non si ferma al fiore in se stesso ma nell'abbinarlo con la scenografia proprio creare una scenografia la cosa di unico la cosa che infatti ho avvertito entrando qua sembra di essere in un posto speciale fuori dal traffico fuori siamo in città naturalmente ma fuori completamente decontestualizzato è un posto particolare crea veramente un'atmosfera magica complimenti complimenti Marta quindi tra poco parleremo anche di sposi perché noi ne abbiamo una qua lo sai non vendono solo fiori vendono emozioni è quello perché l'arte del fiorista è così cambiata grazie Roberto infatti io e te se ne sappiamo qualcosa mi verrebbe quasi voglia di risposarmi ma non è possibile a meno che non cambi partner ma non è il mio caso detto questo la sposa effettivamente in quel giorno è la protagonista ma protagonista assieme alla sposa oltre che all'abito sono tutti gli accessori c'è un accessorio e Donella ma sai tu sei fiori e piante più no? dov'è il tuo negozio? accesa accesa allora da qui perché vi ho detto che questa è una trasmissione un po' speciale tra un po' faremo partire il bouquet perché lo dobbiamo portare poi da Roberto dove ci aspetterà una location particolare però descrivimi un po' questo bouquet ecco questo è un bouquet primavera lascialo pure così guarda che tanto la telecamera l'ho voluto fare a borsetta non il classico bouquet che si tiene in mano ma che si tiene come una borsetta quindi praticamente se io ora lo prendo eh se io lo tengo lo dovrei tenere qua o me lo metto qua perfetto che emozione quindi guarda cioè quindi questo è un bouquet praticamente a borsetta a borsetta primavera e con tanti fiori le spose lo vengono a scegliere no? certo le spose di solito spesso hanno un'idea però bisogna anche capire il tipo di sposa ehm questo lo vedo per una sposa giovane spiritosa allegra ma è vero che si deve tenere anche in evidenza che so l'altezza della sposa il vestito perché il vestito insomma è importante sì è vero tutto chiaramente la sposa quel giorno anche se è piccola diventerà alta per magia comunque perché c'è tempo in vita oh ma oggi si sposano anche con le scappette da ginnastica e l'hai visto? sì sì anche quello comunque anche questo va bene anche per una sposa piccola Donella complimenti guardate cioè signore ma anche signori insomma ma noi signore specialmente guardate mi fai rivenire anche in mente il mio mazzolino perché era con i tracci che cadevano giù è meraviglioso veramente e quindi fiori che effettivamente danno il tocco di poi di tutto quello che è il fil rouge della della sposa i colori e tutto esatto questo c'è il rosa lo vedrete dopo il perché perché allora questo è già pronto io chiamerei qui la nostra Serenella perché Serenella Soldani che sarebbe poi la moglie di Boris Boris tieniti pronto che arrivo ecco lei che questo è un servizio che voi fate vieni vieni Serenella lo voglio chiedere anche a te perché anche tu sei fiorista 360 gradi certo quindi quando voi la domenica mattina al sabato avete pronto perché deve essere freschissimo certo questo bouquet ecco questo bouquet voi lo portate direttamente a casa della sposa sì all'abitazione o dove si trova la sposa allora se ambasciatrice messaggera messaggera allora ti consegno questo 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 bouquet gioiello gioiello perché devi partire per portarlo in un luogo vedi l'ultimo tocco dell'ultimo minuto l'ultimo fiorellino benissimo benissimo vai parti pure esci da là perché noi oggi abbiamo a dopo abbiamo proprio allestito un vero e proprio momento di matrimonio l'entrata la navata e tutto allora abbiamo Lazzaro bello Lazzaro Lazzaro Franceschini come si chiama il tuo negozio? il giardino fiorito di San Leo Arezzo guarda vieni questo qui è un altro la c'è praticamente abbiamo simboleggiato una navata della chiesa e qui c'è un altro portale un altro portale, due colonne chiamiamole così che sarebbero l'entrata della chiesa perché uno è già pronto là è l'accoglienza che la chiesa ha e vede il suo momento fiorito già da lontano può essere fuori da una chiesa oppure come in questo caso che è un matrimonio più campestre, bucolico bucolico, certo qui si parla di un prato o di una spiaggia quindi ecco tutto deve essere in tema però ovviamente tanta professionalità e tanto studio perché anche questo deve avere delle proporzioni sì sì tutto scelto dagli sposi principalmente il colore poi le proporzioni, le armonie, le forme i punti ottimali anche dove vengono sistemati i fiori c'è tutto uno studio quasi teatrale diciamo Lazzaro guarda che cosa vediamo ora arriva anche all'immagine dei nostri telespettatori arriva la sposa ma ragazzi voi di Commercio siete pazzi cioè oggi mi avete rivoluzionato tutta la cosa oggi Ben Godi oggi Ben Godi è veramente un momento di emozione allora Roberto ti ridarei la linea perché che devo dire una nuvola è apparsa ma lo so lo so è stata anche una sorpresa per me questa è una presenza qui in questo negozio in quest'allestimento che ha ragione poi il nostro amico in studio è veramente teatrale è una presenza che sta a significare qualche cosa un momento di cosa vogliono le spose ecco raccontami tu ma solitamente quando una sposa viene appunto a trovarci come prima volta è molto insicura nel senso che ha comunque bisogno di consigli quindi inizialmente una bella chiacchierata appunto con la sposa dove bisogna capirla, parlarci Chiara che tipo è? Chiara è una sposa dolce e romantica infatti il vestito è un po' da principessa quindi anche l'allestimento sarà così? sì sì assolutamente ci vuole un allestimento naturale, morbido proprio come le forme del vestito una cosa romantica come sarà il suo bouquet? il suo bouquet sarà un bouquet che tra poco vedremo va bene va bene Roberto arriva l'abbiamo fatto partire però insomma gli assomiglia però è un bouquet che sta benissimo con l'abito che ha indosso una cosa che devo chiederti dove trovi tutti questi oggetti che creano poi l'atmosfera giusta questo fascino che tu sai ricreare dove li trovi? noi facciamo continuamente ricerca quindi sono tutti la maggior parte degli oggetti sono comunque pezzi quasi unici quindi ci piace appunto girare magari nei vari mercatini ci vuole occhio comunque ci vuole fare gli acquisti giusti perché ovviamente ogni anno le tendenze si rinnovano quindi ci sono dei colori, dei materiali che sono più di moda rispetto ad altri ci vuole un occhio buono è un lavoro che si è inventato la nostra amica e che sta riuscendo a fare tra poco arriva il tuo bouquet va bene? ok? ci ricolleghiamo appena arriva il bouquet facciamo l'abbinamento per lo sposo ci stiamo attrezzando devo dire quello ci manca perché Confuomercio non ha pensato allo sposo in questo caso però il bouquet arriva tranquilli tranquilli ma chi è che ha in mano questo mazzo? chi è? chi è? oh non è la bellissima pensavo fosse... allora c'è Boris che è Soldani che è il presidente... ascolta andiamo di là così si va? Boris Soldani tu sei il presidente dell'Accademia dei Fioristi Aretini di Conf Commercio poi c'è scritto qui nella maglietta guarda che bello guarda questo è fantastico bellissimo poi l'abbiamo fatto anche vedere stava meglio sulla Tiziana in questo punto anche perché è un pochino più sollevato esatto detto questo ascolta stiamo parlando del matrimonio abbiamo visto cioè voi grazie a voi avete allestito tutto questo per far capire a chi ci segue da casa anche che l'arte di mettere in scena perché io dico questo è proprio un vero e proprio momento scenografico no? certo non è a caso quindi avete ricreato questo per far capire abbiamo cercato di ricreare il momento della cerimonia logicamente in piccolo essendo in uno studio televisivo di quello che potrebbe essere comunque leggermente anche non molto più grande però leggermente più in grande leggermente più lunga la navata a seconda se è un matrimonio che è stato è celebrato all'aperto invece che magari è un matrimonio religioso che è all'interno di una cattedrale a seconda poi del momento viene cucito sul sulla necessità andiamo qua prendi qualche fiore mettimelo perché il fatto di avere questo cerchio no? dell'amore insomma la fede il cerchio è il simbolo dell'infinito no? un inizio e poi una fine che non finisce mai ma ricomincia anche il fatto di dover allestire no? momenti come questo è stato proprio creato questo è stato creato questo cerchio se potete vedere la disposizione dei fiori è proprio circolare come come il cerchio quindi non c'è un inizio non c'è una fine è un discorso infinito quindi uno inizia a guardare dove parte i fiori continua ritorna alla partenza ma non c'è un'interruzione può circolare è come il cerchio non c'è un inizio non c'è una fine è partito il bouquet con il tema rosa e bianco qui continuiamo con il tema rosa e bianco logicamente abbiamo pensato proprio in totos deve essere una cerimonia una e quindi il filo conduttore deve essere lo stesso colore sia per gli accessori che per l'addobbo degli spazi anche perché poi parleremo ma anche questi candelabri questi qui sono vasi con all'interno le candele anche questi sono tutti accessori che voi creano un'atmosfera di calore e se l'ambiente magari fosse chiuso però volevo dire siete voi che fornite alla sposa cioè al matrimonio tutto sono tutti accessori che fanno parte del lavoro completo che noi offriamo agli sposi che hanno necessità di ricreare una scenografia poi io vorrei capire perché lo vogliamo spiegare anche a chi ci segue da casa quanta professionalità quanto lavoro ci sta dietro perché creare un ambiente del genere loro oggi l'hanno fatto in uno studio quindi si sono ispirati al loro gusto però ovviamente dovete accontentare il gusto di tutti al di là della professionalità che è come trattare il fiore fine a se stesso c'è un grande lavoro di ricerca a seconda della richiesta del cliente come abbiamo visto appunto anche da Roberto quanti accessori dove li prendete ha detto anche la fiera antiguaria a seconda della necessità dove riusciamo poi a trovarli ma siete creativi siete bravi alcune volte vanno costruiti e quindi qui è in gioco la creatività e la manualità del fiorista ma quanto ti diverte io tanto oppure si possono noleggiare oppure se si trovano vanno si possono anche comprare diventano di proprietà e quindi possiamo come nel caso oggi del negozio della Marta far vedere una panoramica di quello che potrebbe essere e poi è chiaro se la cliente vede quel vaso lì e gliene servono 30 noi logicamente non possiamo sempre avere dopo si fa insieme la navata a fine trasmissione si fa insieme non è che Alex diventa gioco ma figurati figurati ma allora Tiziana sì visto che il nostro tempo sta quasi per scadere quanto è importante avere un'accademia all'interno della vostra associazione di confcommercio per quanto riguarda i fioristi è importantissimo perché nell'accademia poi i fioristi si scambiano le idee parlano ognuno ha poi uno stile differente si confrontano e questo serve poi per essere sempre più professionali più all'avanguardia e pronti a qualsiasi esigenza allora abbiamo concluso il nostro primo spaccato andiamo un attimo in pausa dove sono dove sono sono qua da te Roberto andiamo un attimo in pausa poi ci ritroveremo sempre qui per l'allestimento di questo matrimonio che avete visto avrà anche la sua sposa grazie a tutti